Onorevole Pastorino, lei che cosa ne pensa di queste misure introdotte dal DPCM? Ma intanto io penso che, lo dicevo prima, la gente si stupisce quando vede i governatori prendere posizioni contro il governo e il governo imporsi perché non lo capisce. In più, la gente sempre guardando la televisione si stupisce quando magari vengono intervistati cinque virologi che dicono cinque cose diverse o quattro su cinque, perché succede anche questo. Poi uno se la prende con la politica perché è la cosa più facile da fare. L'abbiamo sentito anche dalla collega Cattò, insomma, che lei lamenta il fatto di non avere i dati. Io dico che c'è un comitato tecnico scientifico, ci sono delle persone che ci lavorano, si può discutere sul fatto che i dati, perché i dati ha ragione lei, sono stati quelli della stima dal 18 al 25 e poi dopodiché c'è una serie di criteri di valutazione che hanno fatto sì che una regione risulti rossa, un'altra arancione, un'altra gialla. La Liguria, per esempio, è rimasta gialla in ragione del fatto che l'indicatore circa relativo alla disponibilità di post in terapia intensiva è ancora alto, per questo ci ha consentito, ha consentito a noi di essere in zona gialla. Dopodiché la polemica è un'altra qua da noi in questi giorni perché appunto gli abitanti della Lombardia, approfittando della finestra temporale di due giorni, sono venuti tutti in riviera ad occupare le secondi case e quindi c'è qualcun altro che si è lamentato. Ecco, in tutto questo io credo che la politica deve usare la più ragionevolezza di tutti e affidarsi alla scienza. Ecco, quello mi sento di dire. Dopodiché è un momento complicato, forse io non mi sarei aspettato appunto una recrudescenza del fenomeno così importante, ma cerco di osservare il fenomeno facendo tesoro delle informazioni che mi auguro possano essere magari sempre di più da parte questa appunto dalla comunità scientifica.